E buongiorno Nicola, la gioia, direttore del Salone del Libro di Torino. Lucie Campos, direttrice dell'Assise Internazionale di Romand di Lione, mi ha coinvolto, ha coinvolto l'Istituto Italiano di Cultura di Lione e me in questa iniziativa. È un'iniziativa congiunta ma è un'iniziativa dell'Assise che ovviamente ci ha trovato molto molto contenti ed è un'occasione per farle due domande. Allora, innanzitutto complimenti per il ricchissimo programma del Salone del Libro 2020 che in attesa dell'edizione vera e propria presenta la settimana prossima degli appuntamenti virtuali di grandissimo interesse, devo dire. La prima domanda è sulla presentazione della letteratura in traduzione. Il sottotitolo di Salone del Libro 2020 è Altre forme di vita, se ho ben capito. E quindi, pertanto, le chiedo qual è la situazione per quanto riguarda la visibilità delle proposte letterarie in traduzione per il Salone del Libro? Cioè della letteratura straniera che noi facciamo in Salone del Libro? Beh, sì, per quanto riguarda il Salone del Libro, insomma, il nostro è un Salone internazionale, quindi vengono ogni anno, arrivano ogni anno autori, autrici da circa 34-35 paesi diversi. Ogni anno a maggio, mezzo mondo, anzi, insomma, da tutti e cinque continenti in realtà, quindi da tutto il mondo, arrivano appunto scrittori, scrittrici, scienziati, sociologi, filosofi. Quindi è come se un po' tutto il mondo per qualche giorno si ritrovasse, in questo caso soltanto idealmente, non fisicamente, a causa del Covid, sotto, diciamo così, il tetto del Salone del Libro di Torino. Quindi la letteratura tradotta, gli ospiti, fanno una buona percentuale di... costituiscono una grande percentuale di invitati. Beh, in questo caso, in questa edizione speciale di quest'anno, che appunto è per adesso soltanto virtuale, in attesa, che quella, diciamo così... Se potessi, infatti, spiegarci un po' questa evoluzione attuale che vi ha portato a inventare questa soluzione. Sì, no, stavo dicendo appunto più della metà degli autori sono stranieri, sono in giudizioni quelli che ci sono quest'anno. Anzi, forse gli italiani saranno anche meno del 50%. Quest'anno è andata così. Il Salone, un po' come è successo con il Salon du Libro di Parigi, a un certo punto non si poteva tenere. E quindi abbiamo pensato di spostarlo a data da destinarsi. Speriamo in autunno, se la situazione migliorerà, di poterlo realizzare. Però si avvicinava sempre di più la data del 14 maggio, che, insomma, è quella in cui sarebbe dovuto cominciare il Salone, e noi, comitato editoriale, eravamo sempre più tristi man mano che si avvicinava questa data, perché sarebbe stata l'unica volta in 32 anni, e questo sarebbe il 33esimo, in cui il Salone non si sarebbe celebrato a maggio. E allora prima c'è venuta una piccola idea. C'è quella di chiamare Alessandro Barbero, che nell'Italia è uno storico molto importante, a tenere una lezione inaugurale nella mole antonelliana deserta, quindi nel luogo simbolo di Torino. Insomma, questa cosa l'ha fatta, l'ha fatta prima di me l'ha fatto il Papa, perché a pezzo a San Pietro deserta c'era stato, come dire, un impatto mediatico enorme. Ma lì la mole antonelliana è bellissima. Dentro la mole antonelliana c'è il Museo del Cinema a Torino. Il professor Barbero ci ha detto di sì, con la sua consueta, diciamo così, disponibilità, e da qui piano piano ci è venuta l'idea di invitare altri ospiti. Però in questo caso in maniera virtuale. E quindi, per esempio, sarebbe dovuto venire quest'anno a Niernaud, che in Italia è molto amata, e noi speravamo che venissero, oppure dalla Spagna Javier Cercas, o dagli Stati Uniti Salman Rushdie. Abbiamo cominciato a contattarli. Non sapevamo che cosa avrebbero risposto. La risposta è stata talmente forte, talmente entusiastica, talmente che a quel punto abbiamo pensato che stava succedendo qualcosa di grosso, qualcosa di importante. Abbiamo continuato a chiamare autori. Per esempio, stamattina è arrivato il sì di Joseph Stiglitz, il premio Nobel per l'economia, di Jared Diamond, eccetera, eccetera. E quindi a questo punto è come se c'è questa edizione virtuale che noi pensavamo piccolina ci esplose in mano. Tant'è vero che stamattina la notizia apre le pagine di tutti i giornali italiani. È in prima pagina su Repubblica. Questa cosa non è mai successa neanche con il salone reale. E quindi siamo stati tutti quanti sorpresi. Tant'è vero che adesso stanno succedendo cose strane. Cioè, tipo, le autorità culturali cinesi ci hanno contattato dicendoci che abbiamo letto i giornali italiani e ci piacerebbe saperne di più. Ci possiamo connettere al segnale? Avete dei sottotitoli in inglese? E noi non immaginavamo di dover fare dei sottotitoli in inglese. E quindi adesso ci stiamo un po'... Siamo stati travolti da questo momento. Io credo sia per tre motivi tutto questo. Da una parte, forse, il fatto che questo appello, diciamo così, venga dall'Italia, che è un paese particolarmente colpito dal coronavirus, che però nell'immaginario culturale è molto forte. Magari, appunto, non c'è molta solidarietà dal punto di vista delle cancellerie internazionali e a livello politico. Ma il mondo della cultura è molto più solidale rispetto a quello della politica internazionale. Il secondo motivo è, credo sia per il fatto, che il Salone, comunque, per molti di questi autori, autrici, è una casa importante. Anno per anno, saltando alcune edizioni, ovviamente, ma questi autori internazionali sono abituati a venire a Torino. E poi anche perché gli abbiamo proposto dei temi forti, alti. Per esempio, ci ha detto di sì David Quammen, l'autore di Spillover, cioè il libro che in qualche modo aveva previsto tutto questo una decina di anni fa. Quindi è nata così. Ed è nata un paio di settimane fa. Cioè, noi, prima del primo maggio, non avevamo idea che tutto questo sarebbe successo. Complimenti. 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 Allora, vado un momentino a restringere, anche perché poi avremmo l'intenzione di creare i sottotitoli. Ah, certo. Francese. E quindi lo faremo noi come istituto. Quindi passo alla seconda e ultima domanda che è, che verte sul tema di Assise Internazionale di Romano 2020. Il tema è l'incertitude, l'incertezza. E vorremmo conoscere qual è il suo personale avviso su questo tema. Se hai, Nicola, la gioia dei consigli di lettura, eventualmente, italiani o no, sul tema dell'incertezza. In modo breve, possibilmente. Grazie. In modo brevissimo. Allora, l'incertezza è la discontinuità, fa parte della storia. Se uno prende la storia umana, la storia dell'essere umano, è piena di momenti di discontinuità, guerre, carestie, epidemie. Noi avevamo avuto 70 anni di continuità, ci eravamo abituati, diciamo così, a una certa stabilità e il cigno nero sta diventando sempre di più, come dire, una costante. Quindi l'incertezza, ci dovremo convivere con l'incertezza. E tutti i grandi romanzi sono fatti di incertezza, di gnoto. Ecco, se devo prendere un titolo, Cuore di tenebra di Joseph Conrad è un viaggio verso l'incertezza, sia dal punto di vista geografico, sia dal punto di vista di esperienza interiore. Grazie tante. Allora, buonissimo, buonissimo Salone. Peccato non esserci quest'anno, ci sono venute anche l'anno scorso. E buon coraggio. Grazie. Grazie. Arrivederci.